Mercoledì mattina alle 9 e mezza presso l'istituto scolastico Manzoni Iuvara di Caltanissetta si è svolto il concerto di presentazione del primo singolo inedito dei Valenò, band nissena che il prossimo 8 febbraio si esibirà a Sanremo per Casa Sanremo Live Box, durante il 73esimo festival della canzone italiana. Il concerto si è svolto nella palestra dell'istituto ed è stato replicato lo stesso giorno alle 11 e 15. Il gruppo ha presentato l'inedito Fairy Tales in uscita il 3 febbraio su tutte le piattaforme digitali, insieme ad altri brani contenuti nell'IP in lavorazione con etichetta discografica FM Wave di Manuel Scarano. Siamo prontissimi per la partenza a Sanremo, siamo molto emozionati, ci siamo preparati moltissimo per questo viaggio, diciamo che prima di arrivare a prendere questa decisione per noi molto importante che è un grande traguardo, abbiamo suonato molto tempo insieme, ci siamo abbuffati anche a volte di legnate durante le prove, però ce l'abbiamo fatta, siamo rimasti compatti, decisi su quello che volevamo fare e dove vogliamo arrivare e noi sappiamo di farcela. Sanremo si avvicina e quella di oggi sarà la prova generale per quello che i ragazzi andranno a fare lì a Sanremo, è un'occasione fantastica per mettersi alla prova e per cercare il riscontro partendo dal loro mondo, cioè da quello dei ragazzi e della loro scuola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.